La sfida tra i due gruppi consisterà in una sfida tra soliste. Come tra soliste? Ecco, io voglio cantare da sola, da sola ragazze, è chiaro? Questa è la mia grande opportunità per distruggere definitivamente il papero provinciale. Ma perché vuoi cantare da sola, Antonella? Che domanda è questa, Caterina? Perché sì, perché se non canto io chi può farlo, sentiamo? Tu, Pia? Eh? No, tesoro. Tu, Luciana, no, ragazze, per favore, smettiamola di perdere tempo. Questa sera ci sarà un evento senza precedenti nella vita della grande Antonella Lama Bernardi.